20 milioni di euro da ripartire tra i 33 comuni marchigiani che hanno subito i danni per le nevicate del gennaio 2017. Nel corso della riunione della cabina di coordinamento per il sisma tra il commissario Legnini, quattro vice commissari e i rappresentanti regionali del Lanci e alla quale ha partecipato anche l'assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli, è stata approvata l'ordinanza che fissa le modalità per i ristori destinati alle imprese e ai privati pervenuti alle amministrazioni comunali, nonché per i danni subiti dal patrimonio pubblico e segnalati dai comuni. La concessione dei contributi spetta agli uffici speciali per la ricostruzione, i quali per gli edifici individuano il livello operativo e per i beni mobili e strumentali e scorte provvedono a richiedere la produzione di specifica perizia giurata che attesti il danno subito. L'istruttoria, previa alla verifica di ammissibilità da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, segue le regole della ricostruzione privata assicurando così un ITER veloce e semplificato. Anche per il patrimonio pubblico sono utilizzate modalità semplificate rispetto alle regole della ricostruzione pubblica.